Lo sapevi che fino al 1950 una donna poteva essere licenziata se restava incinta? Sarà solo con la legge 860 entrata in vigore il 26 agosto del 1950 che verrà impedito ai datori di lavoro di licenziare le donne incinte. Legge voluta con forza dall'onorevole Teresa Noce e sostenuta dall'onorevole Maria Federici. Inoltre con questa legge verrà garantito alle donne anche il congedo per la maternità. Nel maggio del 1952 invece sempre su iniziativa di Teresa Noce viene presentato alla Camera il progetto di legge per l'applicazione della parità di diritti e della parità di retribuzione per pari lavoro. Ma l'accordo sulla parità sarà raggiunto soltanto il 16 luglio del 1960 solo per il settore industriale. Nell'agricoltura infatti le donne otterranno la parità salariale soltanto nel 1964. Tutto questo naturalmente sulla carta perché di fatto sappiamo che la parità è ancora lontana. Grazie.